Qual è stata la richiesta che avete indirizzato al Governo regionale? La richiesta indirizzata al Governo regionale è stata la sospensione di questo PRAE perché sarebbe stato catastrofico veramente il risultato se fosse stato approvato, se l'avessero già portato in giunta e poi ancora in consiglio per l'approvazione perché effettivamente affossava le nostre attività perché il PRAE a Sograniti da quando si è costituita essendo strumento di pianificazione lo ha richiesto sempre perché il PRAE dovrebbe essere uno strumento di sviluppo delle nostre aziende invece questo assolutamente era il contrario. Adesso oggi il Governatore Cirio comunque ci ha rincuorati tantissimo perché il PRAE probabilmente verrà approvato per quel che riguarda il comparto delle pietre di sabbia e ghiaia mentre invece per quel che riguarda le pietre ornamentali verrà estrapolato in pratica e si dovrà lavorare su questo ma da subito in pratica per fare poi un PRAE rispettando le nostre esigenze consentendoci di poter lavorare comunque e di sviluppo perché sicuramente le nostre attività sono molto importanti per il nostro territorio sul nostro territorio la pietra è cultura, è futuro soprattutto, è contemporaneità e noi vogliamo che continui.